Alla fine sono riuscita a obbedire agli ordini del mio signore. Devo proprio ringraziarti. Chi è il tuo signore? Isshin Ashina. Sono un cerusico al servizio di Lord Isshin. Perché ti è stato ordinato di aiutarmi? Lord Isshin non intende usare il potere del retaggio del drago. Ecco perché lui... Ha provato ad aiutare Kuro a fuggire da Isshina. Esatto. Il messaggio che ho trovato nel pozzo era opera tua? Esatto di nuovo. I miei doveri si sono conclusi, ma c'è qualcuno che credo vorrai vedere. Lord Kuro è di sotto. Sono qui per voi, mio sire. Sì. Hai fatto bene a venire qui. Andiamo. Dobbiamo lasciare Ashina. Lupo. Il mio sangue. Il sangue del drago rende gli uomini immortali. Lo stesso vale per te. Sì, sire. Volevo salvarti. Sono sicuro che lo rifarei, dovesse essere nuovamente necessario. Però la non morte provoca la stagnazione. Il giuramento immortale, le acque del ristoro, il mal del drago corrompono gli uomini. Fino a impedirgli di vivere come umani. Voglio spezzare le catene della stagnazione create dal retaggio del drago. Lupo. Mi aiuterai a raggiungere questo scopo? Padre, non posso infrangere il codice di ferro. Non posso. Proteggere voi, erede divino, è il dovere che mio padre mi ha affidato. Quante volte sei morto e tornato in vita per il mio bene? Due, tre volte. O forse così tante volte che è impossibile contarle. Se è stato per difendere il mio sire, il numero non è importante. Non intendo vincolarti a un'eternità di non morte. Lupo, unisciti a me nel tentativo di recidere i vincoli dell'immortalità. Come desiderate. Grazie, lupo fedele. Se vogliamo recidere i vincoli dell'immortalità, so dove possiamo iniziare. Lupo, guarda qui. Un antico documento custodito nel castallo Ascina. Sacre lacrime di drago dal regno celeste. Sì, credo che con le lacrime di drago il retaggio del drago possa essere reciso. Ma il regno celeste, come facciamo a... Lo so, lupo. Quell'incensiere era di una persona interessante. Dagli un'occhiata. Ha qualcosa di speciale? Mi è stato detto che molto tempo fa, qui nel castello Ascina, viveva un altro erede divino. Il suo nome era Lord Pekeru. L'incensiere era suo. Ora dov'è? È morto molto tempo fa, pare. Avvolto nel sentore della sorgente, torno al regno celeste. Pare che furono queste le sue ultime parole. Volete dire che il sentore della sorgente è la chiave per raggiungere il regno celeste? Così penso. Lupo, scopriamo la verità insieme. Ora, per cominciare la nostra ricerca, sono sicuro che in questo castello siano rimasti alcuni libri di Lord Takeru. Libri che ha raccolto nella ricerca del regno celeste. Mi metterò la loro ricerca. Oltre a cercare una via verso il regno celeste, forse possiamo anche cercare di capire come recidere i vincoli dell'immortalità. Ottimo suggerimento. Parla con Isshin. Se c'è qualcuno che può conoscere la risposta, è lui. Lupo, vieni con me. Lord Isshin non è nella cittadella del castello. Mi hanno detto che è in convalescenza in una di queste torri di guardia. Purtroppo la via verso la sua torre è chiusa. La sua salute è un po'... Come posso entrare? Sul tetto c'è un passaggio pattugliato dai ninja corvini. È pensata per gli shinobi, ma credo che per te non sarà un problema. Ho sentito che i ninja corvini usano segnali di fumo come riferimento. Sì. Seguendo i loro segnali di fumo, dovresti arrivare da Lord Isshin. E puoi usare questa finestra per raggiungere il tetto. Trova Lord Isshin. E chiedi se sa come recidere i vincoli dell'immortalità. È in convalescenza in una delle torri di guardia fuori da questo castello. Raggiungi il tetto da quella finestra aperta. Poi segui i segnali di fumo dei ninja corvini. Ti affido questo compito. Il mio sire non è in questo torrione. È in una delle torri di guardia separate. Ma Lord Isshin non sta bene. Pertanto non è possibile entrare nella sua torre. Pertanto non è possibile. Riguardo alla vita dell'erede divino Sì? Vorrei chiederti una cosa Ma prima, so che! Cosa? Te lo sei meritato Tieni Mio nipote Genichiro era stregato dalle acque del ristoro Hai fatto bene a porre fine alla cosa Hai la mia gratitudine Ho semplicemente seguito il codice che ho appreso da mio padre Ah, il codice di ferro degli shinobi? Capisco Dunque sei il figlio del gufo Quello trovato durante la ribellione Sì E i tuoi viaggi ti hanno condotto qui I legami che ci uniscono sono davvero divertenti Non credi anche tu, Sekiro? Tu sei Dunque, cosa vuoi sapere? L'erede divino Vuole recidere i vincoli dell'immortalità Voglio sapere cosa si può fare La lama mortale Se avessi un'arma come quella Potrebbe essere la chiave di ciò che cerchi La lama mortale Usandola è possibile uccidere chi non può morire con metodi normali Colui che non può morire I posseduti Credo sia questo il loro nome Non ne ho mai visto uno Ma si dice che puoi pugnalarli al cuore O mozzargli la testa E non morirebbero comunque Se le storie sono vere Sono creature davvero terrificanti Per uccidere un mostro simile Ti servirà la lama mortale Dov'è questa lama mortale? Ho sentito che la tengono nel tempio Sempù Ma dicono che la lama mortale Non può essere sfoderata Cosa vuoi dire? Non lo capisco neanche io Ma è quel che si dice Le porte del tempio sono chiuse, però Chissà cosa stanno facendo quei monaci degenerati Rinchiusi lassù tra le montagne Non ci sono strade decenti che conducono lì Te ne vai, Sekiro Recidere l'immortalità Sarà una grande battaglia E in battaglia i piani e i desideri di chi è coinvolto Vengono eternamente rimescolati L'esitazione ti spazzerà via E perdere la battaglia Proprio così Tienilo bene a mente Sekiro Se esiti Verrai sconfitto Non ci sono Sekiro, che cosa vuoi sapere sulla recisione dei bambini dell'immunità? Vai, Sekiro. Allora sarà per un'altra volta. Allora sarà per un'altra volta. Allora, hai incontrato Lord Isshin? Sì, mi ha ringraziato per aver sconfitto Genichiro. Capisco. Chi pensava che Lord Genichiro sarebbe arrivato al punto di bere il Sedimento del Ristoro? Sedimento del Ristoro? È il nome che si dà alle acque del Ristoro particolarmente concentrate. L'avrai notato tu stesso. Il Sedimento del Ristoro dona una resistenza straordinaria alla carne. Consente di sopportare colpi che altrimenti sarebbero fatali. Il mio mentore Dogen ne ha studiato a lungo gli utilizzi, ma... Tutta la sua opera. Documenti, farmaci, ogni cosa. Tutto è stato bruciato e distrutto. Pare che uno dei suoi apprendisti abbia recuperato qualcosa. Ma non so chi. Forse Dojun. Hai chiesto l'opinione di Lord Kuro al riguardo? Sì. E quindi? Abbiamo deciso di recidere i vincoli dell'immortalità. Capisco. Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato. Sembra quasi che tu mi stia dicendo addio per sempre. Ho eseguito gli ordini del mio Signore, quindi rimarrò qui nel castello. Torna a parlarmi quando vuoi. Ti fornirò assistenza medica in caso di bisogno. Prendi del sake. Oh. È fonte di drago. Ne berrò un po'. Cielo. Qualcosa non va? Niente. È solo che ogni volta che Lord Shinn aveva un po' di fonte di drago, tutti si radunavano al castello a Shinn e davano vita a una festa davvero turbolenta. Ogni volta che succedeva, io lasciavo Lord Dogen da solo e mi dirigevo sul retro del castello. Dietro il castello? Perché? Beh, andavo alla spirale della sorgente. Che cos'è? Se guardi in direzione della sorgente, vedrai in lontananza una grande spirale di nuvole. Grandi fulmini saettavano da un nembo all'altro. Ed era proprio lì che Mastro Genichiro faceva pratica con la spada, mentre scrutava quei fulmini tra le nubi. Ecco, per te. Oh, ma questo è il sake preferito di Lord Shinn. Ne prendo un po'. Delizioso. Ti prego, dimmi qualcosa. C'è una cosa che vorrei chiederti. Ma certo. Chi ti ha allenato a combattere con la spada? La spada? Io sono un cerusico. Sì, ma chi? Lord Shinn. Sono solo una dilettante. Le tue abilità non sono certo quelle di una dilettante. Perché hai imparato? Beh, non per uccidere le persone. Cosa vuoi dire? Non ho il minimo desiderio di uccidere esseri umani. Però vorrei uccidere un demone, se mai ne vedessi uno. Un demone? Non prendermi sul serio. Era solo uno scherzo. Addio. Che fastidio questa polvere. Sono tornato. Oh, lupo. Sei tornato. Hai incontrato Lord Shinn? Sì. Ha detto. La lama mortale. Potrebbe essere la chiave per recidere l'immortalità. La lama mortale? È una spada con il potere di uccidere i senza morte. Si trova al Tempio Sempo. Capisco. Sì, mi sembra promettente. Come volete. Io invece ho cercato libri che potrebbero contenere indizi sul sentore della Sorgente. Pare che anche Lord Takeru abbia cercato un modo per raggiungere il Regno Celeste. Per ora ho trovato solo un'informazione rilevante. Ed è... Un fiore. Sire. Questo è per voi. Che sia... È rugiada di ciliegio. È... Quando il giuramento immortale del retaggio del drago viene infranto, si dice che rimanga questo al posto del giuramento. Credete che questa sia stata lasciata dal Lord Takeru? Così sembrerebbe. Lupo, se lo desideri, posso usare questa rugiada di ciliegio per aiutarti. Se voleste essere così generoso... Ma certo. Chiudi gli occhi. Mio sire. Il sangue del drago di Lord Takeru continua a vivere in te. Accetto umilmente. Sì. Ora puoi aprire gli occhi. Mio sire. Questo è un dono concesso dal Lord Takeru. Usalo con saggezza. Sì. Un fiore. Prima, leggi questo. Che cosa... Lo ha lasciato Lord Takeru. Cercavo informazioni sul sentore della sorgente e del suo legame con il regno celeste. Delle acque della sorgente scorrono attraverso Ascina. Il libro parla di un fiore bianco che cresce dove l'acqua si raccoglie profonda. È un ingrediente del sentore della sorgente. Dove l'acqua della sorgente? Si raccoglie profonda. Forse è in una valle profonda? Sì. La forra potrebbe essere il posto giusto. Le acque della sorgente la attraversano di sicuro. Dove si trova questa forra? Oltre i boschi, dietro il castello. Nei boschi c'è un santuario consacrato al serpente bianco. La forra, come è naturale, si snoda subito sotto. Non c'è un sentiero per raggiungerla, ma un uomo del tuo talento può farcela. Sire, questo è per voi. Questo è un documento scritto da qualcuno che cercava il sentore della sorgente. Capisco. Qui parla di una roccia odorosa in un villaggio sacro. Ma non ho mai sentito parlare di questo villaggio. Che c'è, lupo? Cos'è quella pietra dalla forma strana che porti? Si tratta della roccia odorosa della sorgente. Mio sire, pare che questa pietra sia custodita in un tempio. Sì, è proprio come la descriveva il libro. Sì, c'era anche un'iscrizione. Un dono di nozze dal dolce profumo, riportata sull'altare. Di nozze? Che genere di luogo era? Era in una grotta, dietro una porta di solida roccia. In questo caso, dov'era diretta la processione nuziale? Immagino che non lo sapremo mai. Dal dolce profumo. Lord Kuro. Quella potrebbe essere la via per il regno celeste. Capisco. Dal dolce profumo. Cioè avvolto dall'incenso della sorgente. Forse si riferisce a questo. Ah, a proposito. Quella porta indicata con la sagoma di una persona. Lord Shin una volta l'ha chiamata Scorciatoia Shinobi. Non ho idea di come funzioni. Ma dato che si parlava di Shinobi, ho pensato che potessi saperlo. Non ho idea di come funzioni. Non ho idea di creare a ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.